Nuovo appuntamento questa sera alle ore 20 presso la piazzetta adiacente la porta d'ingresso del centro storico della città di Agropoli. A farlo sapere è Eleonora Zaccaria, promotrice e organizzatrice della protesta pacifica Questo Belvedere è suolo pubblico, organizzata alcune settimane fa a causa di una disputa tra i proprietari di un immobile presente nella piazzetta e l'amministrazione comunale. Nella scorsa manifestazione i cittadini hanno anche affisso uno striscione con la scritta Questo Belvedere è suolo pubblico. Questa sera dunque gli stessi cittadini si incontreranno sulla terrazza Belvedere. Abbiamo desiderio di incontrarci per un agorà e un ascolto di bellezza scelto come tema d'incontro ciò che muove il mondo, l'amore e la libertà fanno sapere gli organizzatori e invitano i cittadini a partecipare all'incontro con una poesia, un testo o qualcosa che accomune al senso di appartenenza per un luogo pubblico come la piazzetta del Belvedere nel centro storico di Agropoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.